E' stato il laziale Emanuele Rocchi del Pirata Official Team a vincere la prima edizione della gara ciclistica in linea Rossini-Raffaello, primo Memorial Marco Ragnetti, che ha visto l'iscrizione di 145 giovani di categoria allievi di 28 squadre differenti provenienti da 11 regioni italiane. Una gara che si è svolta domenica con partenza da Piazza del Popola Pesero e arrivo ad Urbino sotto i Torricini Ducali in 74 chilometri con un dislivello di 1060 metri. Gara giovanile che ha incoronato Rocchi alla quarta vittoria stagionale davanti al romano Leonardo Consolidani del Team Coratti e terzo posto per Mattia Proietti-Gagliardoni della squadra di Foligno. E' stata una gara dura, come ho già detto prima sulla prima salita sono rimasto in gruppo, non mi sono mostro, non ho sprecato energie, poi dalla seconda salita abbiamo cominciato ad aprire il gas, sono rimasto con altri due corridori, sapevo di essere il più veloce e ho aspettato la volata finale. Sicuramente dura soprattutto per il grande caldo fin dalle prime battute di gara, purtroppo un piccolo incidente meccanico mi ha costretto a fermarmi durante la prima scalata, per fortuna sono riuscito a risolverlo, sono riuscito a battere questo buon secondo posto, veramente molto contento, complimenti a Emanuele perché ha fatto una grandissima gara. Appena è iniziata la salita ho cercato subito di fare la differenza, ci sono riuscito, infatti dopo due o tre chilometri già eravamo rimasti in tre, ho continuato a provare per cercare di svalicare da solo, però non c'è stato nulla da fare. Gli ultimi 300 metri quando mi sono alzato in piedi per fare la volata ho avvertito un po' di dolore alle gambe, però non ho scuse perché sono stati nettamente più forti di me. Podio a parte è stato un successo di partecipazione e organizzazione, quella apparecchiata da un gruppo di amici appassionati come Maurizio Radi, Michele Sgherri, Giacomo Rossi, Gianmarco Fedrigucci, Filippo Beltrami, Alighiero Omiccioli e Ivan Cecchini. Diciamo che siamo orgogliosi di aver costruito un evento incredibile, nell'arco di 3-4 mesi abbiamo fatto questa prima edizione della Rossini Raffaello, il ricordo di Marco Ragnetti e dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, eravamo più di 250 sulle strade che è una cosa fondamentale perché poi alla fine se non ci sono questi qua, ragazzi volontari che si fermano per garantire la sicurezza ai corridori non potremo realizzare un evento di questo genere. Una gara di ragazzini giovani che fanno sport e che sperano nel ciclismo di magari un giorno trovare il loro futuro, cosa che oggi è sempre più difficile vedere giovani che fanno attività sportiva, attività sportiva agonistica e soprattutto un'attività sportiva come il ciclismo che veramente li impegna tanto e che già da giovani gli chiede sacrificio. Quindi siamo qua per cercare di stimolarli sempre di più, dannogli una mano da un punto di vista organizzativo e cioè portarli a casa loro, a Pesaro, a questi ragazzi e nelle marche una nuova manifestazione. Perché oggi il problema di stimolare questi ragazzi a fare attività è anche proprio la problematica della carenza delle gare a livello nazionale. Ci sono sempre meno gare, ci sono sempre meno società che fanno attività agonistica. Quindi noi con questa nuova manifestazione, con questa Pesaro Urbino, Rossini Raffaello, vorremmo cercare di riportare entusiasmo nella nostra provincia perché ormai sono tantissimi anni che da noi addirittura mancano società sportive a livello giovanile nel ciclismo e soprattutto che mancano anche competizioni. Una prima edizione della gara che è stata dedicata alla memoria del compianto Marco Ragnetti, giovane ciclista pesarese dell'Alma Juventus Fano, tragicamente scomparso nei mesi scorsi dopo un incidente stradale. Io ringrazio veramente tutti per aver organizzato una cosa del genere perché Marco ci teneva veramente. È iniziato col ciclismo perché era una mia passione, ha iniziato così giusto per divertimento, poi se l'era presa veramente cuore. Siamo andati alla presentazione di questa gara dove aveva dato veramente voglia di fare veramente bene. Poi purtroppo è successo quello che è successo e è andato un po' così. Sì, io veramente ringrazio soprattutto Maurizio anche del Fisioradio, un po' la squadra, l'Alma Juventus Fano, un po' tutte le persone che sono dedicate a organizzare questa gara in memoria di Marco. A livello proprio familiare vogliamo dire veramente grazie a tutti.